Automatizzare negli investimenti è molto importante per due aspetti principali. Uno, ti libera del tempo che puoi utilizzare per scegliere gli asset su cui posizionarti e contemporaneamente anche studiare, innovare, imparare, testare le tue strategie, capire ciò che funziona e capire ciò che invece purtroppo non funziona e quindi andare a sistemare e migliorare. Due, elimina o comunque limita molto il tempo che passiamo sui grafici. Di conseguenza va a limitare quello che sono gli errori che derivano proprio dallo stare troppo sui grafici, in particolare quelli collegati alle emotività. Ricordiamoci che rimanere con gli occhi puntati sul mercato, operare sul momento, porta tendenzialmente a fare errori derivanti proprio dalle emotività. FOMO, FUD, giusto per citarne alcuni. Meno stiamo sui grafici, quindi più riusciamo ad automatizzare, più sul lungo termine statisticamente riusciamo ad avere dei profitti migliori. E in questo video ti voglio proprio mostrare quali bot utilizzo, quindi come automatizzo la mia operatività, dove lo faccio, e quindi ti darò una guida completa su diversi tipi di bot che puoi utilizzare a seconda delle tue strategie o a seconda che tu voglia lavorare long term o short term. E mi raccomando, seguimi fino alla fine perché ti mostrerò qualche soluzione di bot genera bitcoin. Quindi se sei pronto, partiamo subito. La prima cosa che dovremmo chiederci è dove posso impostare i miei bot. Ci sono tantissime soluzioni che puoi utilizzare. La maggior parte di exchange, ormai anche quelli più famosi, hanno delle soluzioni bot, ma personalmente utilizzo un exchange in particolare che si è distinto e si distingue da tutti gli altri proprio per la quantità e la qualità di bot che ha al suo interno. Sto parlando di Pionex. Pionex è un exchange costruito per automatizzare l'operatività di ogni investitore o trader. Ed ecco perché l'ho scelto proprio per andare ad automatizzare, cioè a utilizzare i bot. Un exchange estremamente innovativo che pochi ancora conoscono, ma se mi segui da un po' sul canale mi avrai già sentito parlarne, usarlo, perché è veramente uno di quelli exchange che utilizzo ormai da tanto tempo e col quale mi trovo veramente benissimo. Ma tra poco ti mostrerò anche il perché e quali soluzioni ha. Lo uso sia sullo spot che anche sui futures. E a proposito di futures, Pionex ci dà un bonus estremamente interessante. Insieme ai ragazzi di Pionex abbiamo deciso di regalare 50 dollari di bonus trading che può essere utilizzato per aprire delle posizioni di trading e quindi compensare eventuali perdite e prendersi al 100% tutti i profitti, quindi è un bonus non prelevabile, che può essere molto interessante da usare per iniziare a muoversi o se sei già esperti provare a testare qualche strategia proprio nel trading. Come riscattare questo bonus? Per riscattarlo dovrai, uno, registrarti a Pionex tramite il link che troverai qua sotto nella descrizione. Una volta cliccato arriverai su questa pagina, clicca qua, qua vedrai un bottone inizia, ti registri, quindi mail, password, classica registrazione come su tutti gli exchange. E mi raccomando, è molto importante, bisogna completare la verifica dell'identità livello 2, quindi il KYC livello 2. Pionex essendo un exchange senza l'obbligo del KYC attualmente, uno potrebbe fare più account e quindi prendere più bonus, ma per questo ovviamente si passa per la verifica dell'identità. Questo bonus sarà valido solo per i primi 20 iscritti, quindi andiamo giù, qui ci sono come vedi tutte le regole dell'evento, è valido solo per i nuovi utenti, viene erogato ed accreditato sul conto dopo 24 ore massimo dalla registrazione e dopo aver completato il KYC 2. Il bonus sarà utilizzabile entro 7 giorni dall'erogazione, quindi se tu ti registri adesso avrai 7 giorni per poter utilizzare il bonus. Come funziona? Una volta avviato, piazza uno stop loss al 25% del bonus e un trigger take profit al 50%, quindi se perdi, perdi il bonus, non perdi i tuoi soldi, se vinci però vai a guadagnare, di conseguenza usi il bonus sostanzialmente per coprirti le perdite. L'evento durerà una settimana, quindi a partire dal lunedì 2 fino al 9 settembre alle ore 22 e comunque sia sarà valido fino a quando non si saranno iscritte 20 persone. Quindi se si iscrivono immediatamente 20 persone, ovviamente l'evento terminerà, perché il bonus è solo per le prime 20 persone. Quindi se ancora non ti sei registrato a Pionex, questo è il momento giusto di farlo, qua sotto ti lascio il link. Vediamo a questo punto come utilizzare i bonus e poi entriamo nel dettaglio per capire come funziona effettivamente Pionex. Una volta entrata nella tua dashboard, ti basterà andare in Wallet, Primary Account, scorrendo un po' in basso vedrai immediatamente qua Pionex Bonus, ad esempio qua un bonus di 100 dollari che posso utilizzare per fare trading. Se clicco dettagli, ecco qua, vedi, mi apre questa schermata qui. È anche utilizzabile da cellulare, ha un'app Pionex dedicata. Qui vedrai, ecco, scade il 9, quindi è esattamente questo tipo di bonus. Clicca Usa. Puoi usarlo sia per creare un tuo bot, sia, come puoi vedere qua, per copiare una strategia, un bot. Ora clicchiamo ai strategi ed ecco qua che ci mostra delle strategie per poter utilizzare il bonus. Quindi io posso, per esempio, scegliere questa qui, dirgli copia e lui andrà a copiarmela. Oppure posso scegliere questa qui e posso anche decidere se andare long, short, neutrale e in base a quello mi dice come sta andando la strategia. Come vedi c'è Bitcoin, Ethereum e così via, ce ne sono diverse. Ora, questo è se vuoi copiare una semplice strategia AI. Se invece vuoi andare a copiare la mia strategia, ti metterò il link qua sotto. Ti basterà cliccare copia il bot con il bonus e quindi potrai copiarmi il bot. Ora che sappiamo dove impostare i nostri bot sulla piattaforma di Pionex, vediamo quali è possibile utilizzare. Su Pionex ce ne sono veramente tantissimi di bot, alcuni molto semplici, altri un po' più complessi, un po' più macchinosi da comprendere e addirittura ci sono soluzioni basate sulla I. Quindi tu hai all'interno di Pionex una sezione Pionex GPT dove puoi andare a crearti utilizzando l'intelligenza artificiale dei Pinescript da automatizzare su TradingView e da TradingView collegarli su Pionex. O se hai già degli script, delle cose che già utilizzi su TradingView, beh, su Pionex tramite Webook è possibile andare a collegarli, quindi anche collegare fonti esterne. Di conseguenza è ad oggi la soluzione secondo me più completa, l'exchange più completo proprio nell'ambito dei TradingBot. In particolare però voglio mostrarti in questo video quelli che utilizzo io, come li ho scelti, perché li ho scelti e come utilizzarli al pieno del loro potenziale. Perché ricordiamoci che un bot non è un nostro sostituto nella parte strategica ma nella parte pratica. Quindi noi abbiamo e creiamo una strategia, ma poi il bot va solo ad automatizzarla, quindi va a fare il nostro manovale se vogliamo, non va a creare per noi la strategia. Questa è una cosa sottile ma molto importante ed è ciò che ti differenzierà tra chi ha successo con i bot e chi invece perderà solo soldi. Personalmente uso quattro categorie di TradingBot. La prima categoria TradingBot spot sul lungo termine. La seconda Futures a breve termine. La terza Opzioni. E la quarta Arbitraggio. Ciascuna di queste categorie ha dei pro e dei contro. Tutti i bot hanno dei pro e dei contro, dei punti di forza e dei punti deboli. Ma andando a mixarli insieme riesco a compensare i punti deboli, potenziare i punti forti. E quindi sul lungo termine guadagnare attraverso l'automazione delle mie strategie. Partiamo dagli spot. La prima categoria. Lo spot è una categoria di bot che va semplicemente ad accumularmi o vendermi delle cripto che possiedo effettivamente. Quindi le compro e le vendo. Il classico spot trading. In particolare in questa categoria che vado a posizionare long term utilizzo principalmente tre tipologie di bot. Il T-WAP, il DCA e il Rebalance. Il T-WAP non è altro che il classico piano d'accumulo. Io vado infatti a utilizzare il piano d'accumulo per far che cosa? Appunto per accumulare i miei Bitcoin. Qual è il vantaggio del piano d'accumulo così? Classico piano pack d'accumulo, piano pensione se vogliamo. E' quello di accumulare Bitcoin mediando nel prezzo. Perché delle volte comprerà alto, delle volte comprerà basso. Ma in linea generale ci manterrà una media sensata rispetto che andare a comprare tutto in una volta. Altro bot abbiamo detto il DCA. Il DCA sarebbe questo appunto il dollar cost averaging, quindi il piano d'accumulo. In realtà su Pionex viene chiamato T-WAP perché c'è un altro bot DCA che è leggermente diverso ma comunque molto interessante da utilizzare. Eccolo qua. E' in questo caso un DCA bot Martingala. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo andare a impostarci degli ordini, ogni tot calo percentuale e vendere tutto in una volta. Noi andiamo a comprare per esempio man mano che scende il prezzo, va a mediare la posizione, ecco perché si chiama DCA. E poi gli diciamo quando sale del 5% vendi. Quindi lui compra una, due, tre, quattro posizioni. Poi magari sale qui più o meno nel punto medio, fai finta che questo qua sia un più 5% e va a vendere tutte e quattro le posizioni in un colpo solo. E ricompra. A quel punto ricompra uno, se poi sale, lo rivende, ricompra. Se non scende e si va a muovere in questo modo. Questo bot è estremamente interessante. Personalmente come puoi vedere qua i risultati sono niente male. Mi ha fatto attualmente un 7,41% su 200 giorni. E' un bot relativamente buono. Parliamo comunque di una situazione stagnante di Bitcoin. Quindi ci sta che non sia particolarmente top. Però è comunque molto molto interessante. Come funziona? Come l'ho settato? Semplicemente gli ho messo comprami ogni volta che scende il prezzo di 2.000 dollari. Quindi ogni volta che Bitcoin scende di 2k lui va a comprare. Quando torna su di un 5% complessivamente rispetto al punto medio mi va a vendere. Quindi mi fai più 5% e va a vendere tutto. Volume 1.5. Cosa vuol dire? Vuol dire che qua magari mi compra un Bitcoin. Poi scende di 2k mi compra 1,5 Bitcoin. Poi scende di un altro k mi compra 1,5 per 1,5 e va avanti così ad aumentare. Quindi man mano che il prezzo scende compra più Bitcoin. Quando sale poi vende tutto in una volta e faccio profitto. Questo è un bot tendenzialmente più long term. Molto interessante da avviare in bear market. Esattamente come il TWOP. Terza categoria il rebalance bot. E come vedi di rebalance bot ne ho diversi. Anche perché una cosa molto bella che permette di fare Pionex è quella di categorizzare. Cioè io posso creare degli ordini, dei gruppi di ordine con più bot al suo interno. Un po' come creare delle cartelle. Quindi io cosa ho fatto? Ho creato una cartella per le altcoin divise per tipologia. Questo bot sulle altcoin, quest'altro bot su altre altcoin, quest'altro e quest'altro. Ora le altcoin non se ne passano bene. Infatti siamo in perdita. E poi quello essenziale. Quello essenziale che cosa ci ho messo? Ci ho messo i miei bot preferiti in assoluto che sono il BTC Pax Gold. Attualmente ha un più 9,30% in 200 giorni più o meno. Abbiamo poi un BTC Pax Gold USDT. Attualmente ha un 11% ed è attivo da 258 giorni. Su un altro mio account Pionex vediamo che ho un altro BTC Pax G USDT rebalance. Attivo da 317 giorni, quindi quasi un anno, mi ha fatto il 32%. Qui siamo partiti a ottobre del 2023. Ad oggi è un più 32%. Creiamo un paniere di asset come fosse una sorta di ETF in autori bilanciamento. Un cripto indice. Io gli dico voglio questo, 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 questo e voglio che Bitcoin abbia questo peso, Ethereum abbia questo peso, il dollaro abbia questo peso e così via. Lui che cosa farà? Andrà a mantenerti quel peso. Ogni volta che eccede quel peso uno degli asset, vende la quota in eccesso e ti ricompra gli altri due in modo da ripareggiarli. Quindi è molto interessante perché ci permette di mantenere il nostro portafoglio bilanciato nel tempo. Ora passiamo alla seconda categoria, le opzioni. Le opzioni sono molto particolari, sono molto interessanti ma appunto un po' macchinose da comprendere. Quindi se vuoi approfondirle magari scrivono qua sotto nei commenti e le approfondiamo in un video dedicato. Come funzionano? Di opzioni ci sono quelle che si chiamano call e put, quindi che ti fanno andare in un certo senso long e short, anche se non è la stessa cosa, parliamo di due cose totalmente differenti, però è per renderti l'idea. E ti permettono di fare delle cose estremamente interessanti, però appunto ci vuole un video dedicato per spiegartelo. In particolare ti mostro qualche soluzione così da avere un'idea. Ho creato delle soluzioni, come puoi vedere qui, di diverso tipo. Esempio, questo qui mi permette di far che cosa? Di scegliere un po' un prezzo, più o meno faccio con tutti la stessa cosa. Scelgo un prezzo target, esempio in questo caso 54k. Lo scelgo come prezzo di acquisto e contemporaneamente di vendita, utilizzando appunto le opzioni. Cosa vuol dire? Perché uno dovrebbe comprare e vendere allo stesso prezzo? Perché il potere delle opzioni è quello di permetterci di guadagnare teoricamente, se io vado call e put contemporaneamente, se il prezzo va in una direzione o nell'altra. In particolare, che cosa succederà qua? Se io ho un target a 54k, finché bitcoin sta sopra i 54k, io ricevo USDT. Quindi sto andando a produrre USDT. Quando bitcoin è sotto i 54k, non è che mi chiude e perdo, ma che cosa faccio? Vado ad accumulare BTC. Quindi finché sta sopra questa cifra guadagno interessi in USDT, finché sta sotto questa cifra guadagno interessi in BTC. Quindi un bot win-win si è costruito su cose che noi crediamo nel lungo termine possano avere degli ottimi risultati. Ha attualmente un APY del 14,62%. Qui ce n'è uno in perdita, vedi questo qua è in profitto, quindi mi sta accumulando USDT, come puoi vedere. Questo qui invece è in perdita, quindi che cosa sta facendo? Sta andando ad accumulare, perché sotto la cifra di 67k, come puoi vedere sta accumulando BTC. Perché? Perché è sceso sotto i 67k. E di conseguenza non va più a prendermi interessi in USDT, ma va a prendermi in BTC. Quindi rimango sostanzialmente neutro, faccio una sorta di arbitraggio, però in una direzione prendo USDT, nell'altra prendo BTC. Lo stesso vale per questo qui e lo stesso vale per gli altri. Questo qui ad esempio ha un APY stimato di un 30%. Quest'altro qua che è in perdita, ma ha un APY stimato dell'83%. Questo qui del 35% e questo qui del 75%. Quindi a seconda di come si muove, vado a divertirmi. In particolare questo qua, col 35%, l'ho costruito sulla coppia ETH-BTC. Quindi quando va su mi accumula ETH, quando va giù mi accumula BTC. Quindi molto molto interessante. Una soluzione sicuramente molto interessante da approfondire. Abbiamo poi l'arbitraggio, ne ho già parlato più e più volte. L'arbitraggio sostanzialmente ci permette giocare sullo spot e futures contemporaneamente. Esempio ho questo bot in arbitraggio che più o meno sta dando un 9,77%. Questo qui che sta dando un 2,83%, questo un 3,59% e questo un 1,23%. Però ne ho parlato nel dettaglio in un altro video, te lo lascio linkato qua sotto. Arriviamo all'ultimo bot, all'ultima categoria. Quella dei futures. I futures li utilizzo short term, quindi per operare nel breve termine sul mercato. Ho parlato già di come funzionano, anche in questo caso ti lascio qua sotto il link al video dedicato. Poi se vuoi approfondirlo scrivono nei commenti. Qualsiasi delle cose che tu hai visto qua scrivono nei commenti se vuoi approfondire le andremo ad approfondire. Ciò che vorrei mostrarti in questa fase è qualche bot futures non convenzionale che si può utilizzare per guadagnare bitcoin anziché i classici USDT. Andiamo in trading bot, spostiamoci questo qui. Una griglia qua che ho costruito e una seconda griglia che ho costruito. Quella è la cosa interessante di queste griglie. Beh queste griglie come vedi sono una sul cambio ETH BTC e l'altra USDT contro BTC. Quindi una griglia inversa rispetto il classico bitcoin USDT. La peculiarità di queste griglie è che generano bitcoin. Quindi utilizzando bitcoin come valuta vado sostanzialmente a creare delle griglie. Quindi speculare sul prezzo in un caso e nell'altro ottengo che se perdo perdo dei bitcoin ma se vinco vinco dei bitcoin. In particolare questa qua la prima è una griglia inversa. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando bitcoin scende io vado a guadagnare più bitcoin. Quindi è una griglia estremamente interessante da avviare quando. Da avviare quando crediamo che il mercato possa andare giù. Da avviare quando ormai c'è stato il culmine no? Abbiamo fatto il culmine del bull. Ci aspettiamo che il mercato crolli. Piazzarla lì significa veramente andare a guadagnare un sacco di bitcoin. Oppure anche nelle situazioni laterali se la cava bene. Perché il prezzo sale e scende sale e scende. Man mano che fa questo movimento qui andiamo ad incamerare bitcoin. Quindi è una soluzione per accumulare i nostri bitcoin piuttosto che i classici dollari. Ovviamente è inutile dirlo. Quando parliamo di trading futures bisogna fare estremamente attenzione. Perché entrano in gioco dinamiche come le leve, le liquidazioni. Quindi bisogna essere molto molto attenti perché è un attimo che ci bruciamo i conti. Quindi dobbiamo fare molta 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 attenzione. Però sono delle soluzioni sicuramente interessanti. In questo caso ne abbiamo come puoi vedere qua uno che è più su una situazione di calo. E questo qua è THBTC invece di pump. Infatti come puoi vedere siamo attualmente in perita di quasi un 50% su questo bot. Come vedi non ho messo chissà quale cifra. Perché? Perché quello che io faccio sui futures è dare un importo non con il capitale totale che voglio dedicare ai futures. Ma il capitale totale che voglio dedicare a ciascun ordine. Quindi utilizzo i futures con esempio ho un capitale di 1000 dollari. Ok non vado a mettere 1000 dollari all'interno del futures. Quanto capitale utilizzo generalmente per aprire una posizione long o short? Ipotizziamo che utilizzi 10 dollari o che utilizzi... Sì facciamo 10 dollari va bene. Ora se utilizzo 10 dollari generalmente se dovessi operare su questo conto faccio lo stesso con i bot. Quindi su questo conto qui apro 10 dollari quindi apro una posizione a 10 dollari. E vado a rischiare quei 10 dollari. Non vado a rischiare l'intero capitale. Questa è una differenza importante che bisognerebbe implementare quando si fa trading utilizzando i futures. Cioè pensando a un ordine singolo one shot. Non a l'intero capitale one shot. Perché sono due cose molto diverse. E si va a mitigare il rischio. In questo caso ho detto questo bot qua come vedi è in perdita. È stato giusto in profitto un po' poi calato giù in perdita. Attualmente è stagnante intorno a questo livello. Perché? Perché obiettivamente TH sta facendo abbastanza schifo in questo periodo. Ma ci sta. Perché dobbiamo vedere Bitcoin che pompa. Quando Bitcoin pompa cosa succederà? Che TH pomperà e andrà a vendermi gli TH per riacquistarmi Bitcoin. Ed è questa la forza di questo bot qui. Come vediamo infatti qua sotto. Andiamo un po' giù. Eccolo qua. Ha accumulato dei Bitcoin. Noi vediamo qua il controvalore in dollari. Ma se io clicco qua sopra Bitcoin mi mostra in Bitcoin. Eccolo qui. Mi sta accumulando Bitcoin. Ha fatto già 56 round. Quindi 56 operazioni. E ogni volta va ad accumularmi dei Bitcoin. Quando Bitcoin sale tra l'altro la quantità che abbiamo qua aumenterà di valore. Di conseguenza andrà piano piano ad assottigliarsi questa cosa qui. Come vedi in Tether siamo a meno 47%. In Bitcoin meno 39%. Perché Bitcoin sale e va a compensare la perdita. Quindi questo qui è un bot da bull market pieno. Da a ridosso dell'alt season. Ci si può posizionare su questo bot a mio avviso in bear market. O in queste fasi dove magari si ha l'idea che ci sia un'accumulazione in corso. E che da lì a poco il prezzo possa esplodere. Allora in queste fasi questo bot sarà molto interessante. Quindi lo tengo attivo. E vediamo come performa nel tempo. Questo bot al contrario va a giocare appunto sul cambio USDT contro Bitcoin. Questo qui è forte in bear. Questi bot possono essere utilizzati anche per fare short di copertura. Insomma ci sono veramente tantissime funzionalità che possono essere implementate nella nostra operatività di investimento. Abbinandoci quindi della speculazione sui futures in determinati momenti. Quindi se per esempio noi pensiamo che il prezzo possa cadere da lì a poco. E non vogliamo vendere i nostri Bitcoin. Possiamo aprire per esempio un futures USDT contro Bitcoin. Dove che cosa succede? Utilizziamo parte di quei Bitcoin lì che abbiamo. Ipotizziamo abbiamo 1000 euro in Bitcoin. Ne dedico 100 di questi Bitcoin per andare short. Quindi se il prezzo va giù. Avvio questa griglia. Non solo vado a compensare la perdita ma vado a guadagnare ulteriori Bitcoin. Che quindi quando tornerà su andrà a compensare più velocemente. Viceversa se però va su andrei a perdere dei Bitcoin. Quindi bisogna un attimo comprendere effettivamente come ci muoviamo. Ecco perché dico i bot sono utili ma non sono la strategia. Sono un'automazione della strategia. Qui volevo darti giusto una panoramica di quelle che sono le soluzioni che utilizzo. Nel complesso mi portano a crescere. Mi stanno portando a crescere come portafoglio. E mi permettono di gestire in modo più preciso il mercato. Perché è come avere un occhio puntato sempre sul mercato. Quindi operano H24 anche mentre dormo. E questo è assolutamente fantastico. Contemporaneamente mi liberano tempo per studiare. Per cercare nuove soluzioni. Per andare a calcolare nuove tipologie da applicare. Nuove strategie. Per cercare nuove coin. Quindi è veramente molto molto utile implementare dei bot. A patto che lo si faccia chiaramente con conizioni di causa. Conoscendo ciò che si sta facendo. Se vuoi conoscere in particolare queste quattro categorie che utilizzo. Di alcune ne ho già parlato in dettaglio. Ti lascerò qua sotto i riferimenti. I link ai vari video. Però se vuoi approfondirli ulteriormente. Hai domande o qualsiasi cosa. Tu scrimelo qua sotto. Ricordati che c'è anche il bonus. Se ancora non ti sei registrato a Pionex. Anche in questo caso te lo lascio qua sotto. Ti metto anche il link. Per copiare sia il bot ETH. Sia il bot USDT BTC. Quindi ti do a entrambi una sorta di copy. Così puoi copiarli. Puoi seguirli. E utilizzare il bonus. Per copiarli. Quindi se perdi non perdi nulla. Se vinci però vinci dollari o bitcoin. Che puoi utilizzare. Quindi qua sotto ti lascio il link. Qualsiasi cosa scrivila qua sotto nei commenti. Iscriviti al canale per rimanere aggiornato. Porterò aggiornamenti proprio su queste situazioni qua. Su questi bot. Per capire come sta andando. Ricorda il bonus verrà dato solo ai primi 20 iscritti. Un abbraccio. E ci vediamo nel prossimo video. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.